Presepi di tutti i tipi e quanto si può ammirare di questi tempi. Fra le iniziative più singolari si segnala la mostra di ben 17 presepi all'insegna dell'ecologico e del riciclo, questa volta a fini artistici allestiti da abitare un'azienda di San Mauro Mare nelle Cesenate in collaborazione con il Centro Anima Mundi. La mostra di presepi che sarà visitabile sino al prossimo 8 gennaio si rivolge espressamente ai più piccoli, alle famiglie, ma il successo che sta ottenendo sta andando oltre ogni previsione. I 17 gruppi che hanno realizzato i presepi si sono esclusivamente affidati a materiali poveri, in gran parte destinati altrimenti al bidone dei rifiuti e invece così impiegati in un riuso decisamente ben più nobile. Tanta la fantasia che traspare dai materiali utilizzati per riprodurre l'immortale scena della natività. Lo sguardo può così spaziare dal presepe realizzato utilizzando ciò che resta dei rotoli di carta igienica sino ad arrivare a quello che esalta un cibo, la piadina che non può mancare, a volte come avanzo, sulle tavole imbandite romagnole. A proposito di chi ha pensato e realizzato i 17 presepi in mostra, nessun professionista all'opera. Si tratta di gruppi familiari dove i bambini, assistiti da genitori e nonni, hanno dato sfogo alla loro creatività, dando alle realizzazioni quel pizzico di improvvisazione e ingenuità che li rendono ancora più magici.